Camillo Ricordi, professore Ricordi, c'è un suo recente libro, Il codice della longevità sana, che testimonia quanto lei abbia a cuore il tema di un invecchiamento in salute. Lei però ha conosciuto tutto il mondo per il suo impegno come chirurgo, ricercatore, scienziato di fama internazionale impegnato per trovare una cura del diabete, inventore del metodo per isolare le cellule pancreatiche produttrici di insulina e per aver effettuato i primi trapianti di successo nel diabete. Il diabete è una delle patologie associate a un invecchiamento accelerato che maggiormente influenzano la longevità sana. Quello che volevamo provare a capire è se esistono delle strategie specifiche non farmacologiche che possono rallentare o addirittura invertire l'evolversi della malattia. Grazie, sì, sono tematiche molto importanti perché in effetti uno può dire perché si occupa di longevità sana uno che si occupa di cura del diabete perché in realtà sono strettamente connessi al braccetto perché il diabete è come malattia di accelerato invecchiamento e le strategie che possiamo implementare possono aiutare sia a prevenire il diabete, abbiamo parlato di insulino resistenza, di fattori di rischio, ma è importantissimo cercare di vedere cosa fare prima che uno sviluppi una patologia cronica degenerativa. L'idea di questo libro l'ho scritto praticamente durante la pandemia Covid dal 2020 al 2021 quando ero sotto ansia costante in terapie intensive con gente intubata da Covid, delle forme più gravi che abbiamo salvato fortunatamente con questi nuovi protocolli con cellule mesenchimali staminali ottenute da neonati nati sani che hanno un effetto antinfiammatorio e immunomodulante per cui combattono la tempesta di citochinnel nei polmoni come combattono forme aggressive di autoimmunità e adesso le abbiamo usate anche a Stanford due settimane fa per bloccare una graft versus host disease che sono quelle patologie tremende che conseguono un trapianto di midollo quando il midollo che trapianti rigetta il corpo del bambino che lo riceve. E ho pensato ma è possibile che dobbiamo sempre aspettare a curare la gente quando siamo di fronte a questi casi gravi, emblematici, con trapianti cellulari, terapie molto aggressive. E ho visto che ho iniziato a pensare cosa possiamo fare per cercare di prevenirle, intercettare la progressione di malattia o ancora meglio, grazie alle tecniche di diagnosi predittiva che abbiamo discusso all'inizio, come oggi possiamo individuare fattori di rischio invisibili che ci permettono poi di cercare di sconviggerli. E lì abbiamo iniziato a studiare tutti i fenomeni e le sostanze, molecole protettive non farmacologiche in modo che non c'è bisogno di permesso dell'FDA per fare i trial, se no ti chiedono di fare il trial di fase 1, 2, 3, identificando con intelligenza artificiale, ricerche, tutte le evidenze scientifiche anche non di evidence-based medicine, ma di studi preclinici, cosa si potrebbe mettere insieme. E abbiamo iniziato a studiare e a combinare in questo protocollo che ho descritto prima che nel sito www.fit.com.it che è poi diventato FIT numero 4, FIT for Healthspan, alla fine della pandemia, perché sono le stesse regole che possono aiutarci a prevenire patologie croniche degenerative legate all'invecchiamento cronologico o, in caso di Covid, raddoppi la dose per una settimana e per ora non ho avuto nessun paziente, amico, parente che abbia sviluppato delle forme severe. E cosa sono? In pratica ne abbiamo parlato oggi a lungo, sono gli Omega 3. Adesso io faccio una disclosure di conflitti di interesse. Sono nel comitato scientifico dell'Inflammation Foundation, sono nel comitato scientifico di SIRT Life e non prendo nessuna royalty, nessun pandoro da nessuno gratis. Però ti dico quello che prendo io e poi dico valutate, cercate se ci sono dei prodotti equivalenti che costano meno ma che sono altrettanto efficaci come potenza e come livello di purificazione e che sono stati fatti con criteri sacrosanti di CGMP, Good Manufacturing Practice. E allora perché ho scelto gli Omega 3 dell'Enerzone? Non perché Sorbini mi ha invitato a questa bellissima conferenza, ma perché li usiamo anche con Barry Sears da anni nei trial del diabete. Perché ogni lotto vai a controllare, c'è i livelli di purificazione per tutti i componenti che possono contaminare l'olio di pesce. C'è la potenza, vedi quanto EPA e DHA c'è per ogni grammo. E la vitamina D, su cui credo moltissimo, abbiamo discusso prima come previene 14 volte il rischio di COVID severo, di morire di COVID, aiuta nei tumori tipo il breast cancer, previene le malattie autoimmuni. E uso Nivagen da Amazon perché costa 19 dollari per 2-3 anni di supplementi. Per cui non costa niente, da una delle ragioni per cui nessuna casa farmaceutica mi finanzia gli studi su larga scala. E poi uso una combinazione di polifenoli attivatori delle sirtuine, che si chiama SIR 500+, che combina degli elementi che è difficile trovare e combinare per conto tuo, che sono polidatina, pterostilbene, onichiolo, acido e lagico, che ha discusso anche Scarpennini, che poi forma uralitina, che può avere un effetto anche sul microbiota, dove nel nostro intestino abbiamo l'80% del nostro sistema immunitario. Per cui c'è le componenti che assorbi e le componenti che hanno un'azione magari anche intestinale. Poi uso MakiBerry perché è fantastico, me l'ha insegnato Barry Sears, poi in frigorifero c'è un po' di tutto, se mi capita prendo ogni tanto fisetina, quercetina e altri prodotti. Però è importante perché con Anna Teresa Palamara e l'Istituto Superiore della Sanità, con questa combinazione di polifenoli attivatori delle sirtuine, abbiamo detto ma se aiuta così tanto a migliorare, tipo protezione cardiovascolare, protezione neurodegenerativa, diabete, perché non la proviamo nel Covid, pensando che ci fosse magari un 5-10% di beneficio e poi uno pubblica il lavoro e torna a fare la sua vita. E i dati che hanno scoperto in questi laboratori BL4, dove si può studiare il SARS-CoV-2 come virus, è che inibisce due log, che vuol dire il 99% di inibizione della proliferazione del virus del Covid. Non solo, ma inibisce anche la replicazione virale dell'influenza type E virus. Perché ho detto ma se combiniamo una sostanza che può avere benefici come i polifenoli e un'azione antivirale con vitamina D omega 3 che modulano l'infiammazione e il sistema immunitario per evitare la tempesta di citochina nel caso del Covid, proviamo questo protocollo. È nato così durante la pandemia Covid e poi è continuato come protocollo di HealthSpan Medicine in generale. Mi vado a chiedere, quanto la pandemia è stato un acceleratore di ricerca e di questi discorsi su una longevità sana? È stato un fortissimo acceleratore perché mia moglie, con cui abbiamo fatto lo sharing del lockdown a Miami, che poi non è un lockdown, è un unico paese dove non c'è stato il lockdown, però ho detto ma voi curate solo con sti trapianti avanzati, cellule staminali, isole, solo quelli con le patologie più gravi o fate qualcosa anche per prevenirle? E lì in momenti riflessivi perché poi durante il Covid ci sono stati, torni dalla terapia intensiva, devi farti la doccia fuori, cambiarti, ho preso quattro volte il Covid per conto mio, ma inizia a riflettere e siccome io non sono molto disciplinato e sono molto antiparadigmatico, vado di solito contro le linee guida o quello che impongono i sistemi. Durante la pandemia Covid c'era la cosa, non fai niente finché uno non ha la febbre alta e va in ospedale e poi viene trattato in maniera appropriata, che era intubare o terapia intensiva. Io ho detto ma caspita, è possibile che i medici di base non puoi lasciargli fare in base a quello che sconoscono degli interventi per cercare di evitare che le persone diventino pazienti e finiscano in terapia intensiva. E per quello che ho iniziato in sordina, perché se lo pubblicavo sarei stato linciato, si scatena la macchina del fango, questa non è evidence-based medicine, a provare, diamo queste sostanze che in base a quello che conosco io, non modulare l'infiammazione, modulare l'immunità, cercare di avere un'azione antivirale o di proteggere, aveva senso, poi al massimo non fa niente. Il problema è che poi i supplementi li puoi usare tranquillamente negli Stati Uniti. Se ti viene in mente di pubblicare, guarda che questo modifica una patologia o una malattia, l'FTA, boom, adesso è un farmaco, non è più un supplemento, e devi fare i trial di fase 1, 2, 3, che sono trial che costano decine o centinaia di milioni, che nessuno si può permettere di fare in un sistema non profit, perché lascia solo le grosse compagnie farmaceutiche, case farmaceutiche, in grado di decidere chi, come e quando provare a curare. Per cui sono problematiche un po' complesse, ma magari faremo un convegno su quello. Grazie. Grazie a Camillo Ricordi. Un brevissimo commento. Credo che domani Silvano Zannuso ne parlerà probabilmente sull'esercizio fisico, ma una delle molte cose che ho imparato in questa splendida giornata è stato quando hai detto il ruolo dell'actate acidolattico, che i neuroni attivi funzionano al 60% acidolattico, che è prodotto durante l'esercizio di un certo tipo e lo sforzo. Per me è importantissimo perché aggiunge un altro dei fattori positivi dell'esercizio fisico. Oltre a quello, vabbè, sappiamo che attiva le sirtuine, le molecole dell'orgevità, che combatte la sarcopenia, ma anche il ruolo antidepressivo e ansiolitico dell'esercizio fisico. Si parla, non so in italiano come si dice, la runner high, lo sballo dei corridori, perché attivano questo sistema endocannabinoide, endogeno nostro, che è un po' come fumare quelle cose che non si dovrebbero fumare, ma che provocano lo sballo dei corridori. E che, se pensate, c'è stato uno studio che è stato interrotto, è stato controversial perché è stato interrotto meno, usando un farmaco che blocca il sistema endocannabinoide. Perché ha detto, siccome i giovani che fumano spinelli, poi hanno munching, devono iniziare a mangiare schifezze e tutto, perché non curiamo l'obesità con un farmaco che blocca questo sistema endocannabinoide? E hanno dovuto bloccare lo studio per eccesso di suicidi. per dirti come è un network così protettivo verso la depressione e l'ansia, che se lo blocchi, si dice che blocchi l'80% delle informazioni negativi, o ti aiuta a stare meglio. Perché è un'altra delle cose dell'esercizio fisico che fa molto bene, al di là delle ovvie mensane in corpo re sano, evitare la sarcopenia quando uno prende o zempic o zompic. 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 Grazie. Grazie.